Ciao, sono Marco e il video di oggi si intitola Cosa serve per sopravvivere oggi? Ho deciso di fare questo breve video per dare alcuni spunti di riflessione a te che mi stai guardando e per farti appunto quindi ragionare su quello che può essere utile oggi. Non intendo assolutamente prevaricare quello che è il tuo pensiero, che sono le tue opinioni. Questo video è soltanto una mia opinione sulla base delle mie esperienze personali. Voglio fare questo video perché voglio dirti davvero cosa serve oggi per sopravvivere. Cosa intendo per sopravvivere? Non sto dicendo, non sto parlando di arrivare alla fine del mese ma sto proprio dicendo di sopravvivere nel senso di che cosa è richiesto oggi che cosa vuole fondamentalmente il mondo, quello che ci sta intorno per poter restare a galla. Oggi quello che importa, quello che è importante, che è fondamentale e ho già fatto altri video comunque all'interno del mio canale che ti consiglio di andare a vedere è quello di saper vendere e sapersi vendere. Non sto parlando assolutamente di truffare, sono titolare di azienda quindi non sto parlando di truffo online ma sto dicendo che quello che oggi e che a differenza di un tempo un tempo era sufficiente, oggi non lo è più oggi serve il saper vendere. Perché? Perché una volta la richiesta di qualunque prodotto o servizio era decisamente più alta, c'erano molto meno mestieri c'era molta più semplicità, non serviva infatti se ricordiamo, se torniamo indietro di 50-60 anni non serviva praticamente a nulla la pubblicità una volta iniziava un po' la pubblicità per quello che poteva essere il mondo per farsi conoscere ma se tu avevi un'attività fondamentalmente ti era sufficiente aprire la sala cinesca al mattino per di fatto andare a lavorare oggi non è più così e quindi è necessario è assolutamente necessario che tu impari in primis a vendere a fare marketing quindi a vendere il tuo prodotto o servizio a vendere te stesso se sei tu il frontman della tua azienda quindi se vendi la tua immagine vendi la tua persona devi imparare a vendere soprattutto te stesso o quello che è il tuo prodotto o il tuo servizio perché? perché la gente oggi è letteralmente sommersa sommersa da quella che è la pubblicità le promozioni è sommersa da prodotti da nuovi prodotti ogni momento da servizi nuovi ogni momento quindi tu per stare nel mercato quindi per sopravvivere all'interno del mercato hai anche tu la necessità di muoverti in questo senso quindi hai l'obbligo fondamentalmente di imparare appunto a vendere o a venderti perché potrai avere il miglior prodotto esistente sulla terra potrai avere il miglior servizio presente sulla terra ma se nessuno sa che tu esisti non è possibile non sarà possibile per te vendere un solo prodotto o un solo servizio perché letteralmente oggi siamo sommersi da appunto questa nuova realtà dove la pubblicità e il marketing fondamentalmente la fanno da padrone tanto per usare un inglesismo quindi devi assolutamente se non lo hai ancora fatto metterti a studiare devi provare dovrai sbagliare dovrai cadere come ho già detto anche in altri video basta con questa cosa che l'errore come viene visto un po' dalla morale italiana perché al di fuori nelle altre parti del mondo non è così l'errore qui viene visto come un fallimento se tu hai avviato un'azienda per caso è andata male ah basta sei fallito chiudi baracca burattini nella tua vita non potrai fare più altro finita per sempre invece no l'errore ovviamente deve servire deve aiutare a capire appunto che cosa è sbagliato e ti dà l'esperienza la possibilità di appunto andare avanti e non solo ma di intraprendere nuove magari nuove esperienze facendo tesoro degli errori che si sono fatti se tu vai a pensare molto semplicemente so che è un esempio banale so che fa ridere ma se tu vai a pensare a quando hai iniziato a fondamentalmente a camminare da bambino hai iniziato a camminare come? facendo errori quindi continuando a cadere continuando a sbagliare continuando a inciamparti ogni volta che hai fatto un errore hai migliorato quella che è la tua tecnica affinché sei arrivato appunto a camminare quindi detto ciò ovviamente dovrai commettere degli errori ovviamente sbaglierai ma quello che devi fare prima di tutto è imparare a vendere poi non voglio dirti con questo che una volta che tu hai imparato quelle che sono le tecniche di vendita il come vendere il come vendersi tutto è vendibile ma sicuramente diciamo che la strada è assolutamente differente rispetto appunto alla vita se non hai un'idea vaga quantomeno di quello che è il marketing oggi non sto facendo nessun approfondimento relativo al marketing perché non è questo il video dove voglio appunto approfondire ma è soltanto per darti diciamo un po' una sveglia per quanto riguarda il periodo storico di odierno quindi il 2022 quindi è necessario che tu sappia appunto venderti e sappia impari appunto a sapere come metterti all'interno di questo ciclone del mercato bene se hai qualche dubbio o qualcosa di cui vorresti parlare lascia un aspetto qua sotto nei commenti se invece ancora ti piacerebbe vedere o sentire parlare di qualche approfondimento scrivimelo anche questo così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea e in ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao